Il primo pezzo. Piangete, forza, forza, forza. Voglio queste like, non arrivano, perché, come vai? Benissimo. Bene, no, a parte tutti i bischiesi, questo è l'ultimo pezzo, perché sennò ci mettono in galera, mi hanno già chiamato i carabinieri, quindi dobbiamo chiudere. Quindi andiamo a fare Gustave the Rain, fermatevi che è meglio. Benissimo. Noi, sta perfettando, bomba. Grazie. 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 Grazie.